La Camera dei Deputati restituirà al bilancio, al Ministero dell'Economia, 20 milioni nel 2011, 20 milioni nel 2012, 20 milioni nel 2013. Dico di più, il risparmio complessivo di qui al termine della legislatura ammonta 151 milioni solo per la Camera dei Deputati. Certamente ci siamo posti il problema di quello che è il trattamento del Deputato, di quello che ovviamente è il costo complessivo del Palazzo e per chi avrà la bontà di leggerla ci sono degli interventi di riduzione sia di spese che consideriamo in questa fase tali da poter essere amputate, le spese sulle locazioni, le spese sulla ristorazione, le spese sui beni e servizi, le spese sulla autorimessa, le spese sulla comunicazione. Certamente ci siamo anche preoccupati, proprio perché il Deputato non dovrebbe in qualche modo sentirsi in colpa per il fatto di essere Deputato. Magari si dovrebbe sentire in colpa se non lo fa bene, ma non per il fatto di esserlo. Deputato deve essere quanto più trasparente agli occhi della pubblica opinione e da questo punto di vista posso esprimere, spero con garbo, un motivo di rammarico. È stato giustissimo dare ampia enfasi a quello che è stato scritto su Facebook da un sedicente, vero, finto, ex precario. Altrettanto giusto però sarebbe stato dare altrettanta evidenza alla non opinabile ma iperdocumentata, smentita, che su alcune questioni è stata fatta dall'ufficio stampa della Camera.